È un grande orgoglio e una grande soddisfazione e Chiara Ferragni rappresenta per Monnalisa un ponte verso il futuro. La storica azienda retina Monnalisa ai vertici mondiali per la moda bimbo ha siglato un accordo con Chiara Ferragni. Influenza ed imprenditrice come Monnalisa impegnata nel sociale riceverà l'ambrogino d'oro per il suo impegno a favore della sanità milanese. Monnalisa ha visto negli anni che si vive nel nostro territorio una predisposizione ai giovani e ai bisogni che possono esserci nel territorio. Questo agreement con l'organizzazione La Finisce che è un'azienda portata anche quella per sociale, portata anche quella per problemi futuri, perché guardano il futuro, ci unisce e credo che con questo che si sia proprio nella via giusta. La realtà toscana ha detto all'influencer e senza dubbio l'eccellenza mondiale del Kidswear ci permetterà di entrare in questo segmento di mercato dalla porta principale. Ciao ragazzi, grazie di tutto il supporto. Oggi Monnalisa ha chiuso in borsa con il 23% in più, grazie a questa partnership con Chiara Ferragni, quindi sono super contenta. L'accordo ha l'obiettivo di far crescere a livello mondiale nel segmento moda bambina 0-10 il brand fondato da Chiara Ferragni attraverso la struttura di Monnalisa. È un semplice contratto di licenza, praticamente noi abbiamo in licenza il loro marchio, quindi Chiara Ferragni, e produciamo e distribuiamo in tutto il mondo il campionario che viene disegnato da noi ma tutto approvato e controfirmato da Chiara stessa che guarda e decide se una cosa le piace oppure no. In realtà il nostro mondo e quello di Chiara è molto molto simile, basti pensare che i suoi uffici della sua azienda sono tutti rosa, rosa è da sempre stato il colore di Monnalisa, quindi il nostro simbolo. Ci siamo infatti trovate d'accordo sin dal primo incontro, le prime proposte che gli abbiamo fatto le sono piaciute tantissimo proprio perché siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda, proprio a livello anche di gusto. La mano che darà vita a questa collezione sarà sempre quella di Barbara? La mano è sempre la nostra, noi ormai siamo mamma e figlia, sono 25 anni che lavoravamo insieme, non ci siamo ancora scannate, anzi abbiamo fatto anche un mese di covid insieme, sole in casa e quindi voglio dire siamo veramente inossidabili. A prova di tutto. A prova di tutto, quindi ce la metteremo tutta per fare il massimo e penso che ci verrà sicuramente molto bene.